Musica Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo con il calcio. Lucchese ormai alla rifinitura in vista della trasferta di Sava. Tore 16 e 15 a Pineto in Abruzzo. Partita complicata come ormai lo sono tutte in Serie C. Dopo la bella vittoria sulla spalpe, i rossoneri si apre un ciclo intenso con 5 partite in 18 giorni. Il Pineto è in crisi, un punto nelle ultime 4 giornate. Ha cambiato anche allenatore, il nuovo tecnico e beni. Per quanto riguarda la probabile formazione della Lucchese, si delinea molto vicina a quella che domenica scorsa ha superato la spal. Novità forzata al centro della difesa a tre, dove Fazzi dovrebbe prendere il posto dello squalificato Gucker. Ma sulla Lucchese torneremo nelle edizioni del Tigino Esporta di domani con un ampio servizio. E adesso parliamo di Serie D del Tau Calcio Alto Pascio, che fa un blitz di mercato e si assicura le prestazioni sportive di Ivan Jokovic, attaccante serbo classe 2001. Jokovic dispone di notevoli doti fisiche, va a rinforzare il reparto avanzato degli Amaranto. Sarà disponibile fin dalla prossima partita la gara interna di domenica 18 febbraio, che con ogni probabilità il Tau riuscirà a giocare al comunale di Alto Pascio. E adesso parliamo di pallavolo per una strepitosa Under-18 della Nottolini. In evidente difficoltà in B1 con la prima squadra, attesa dalla difficilissima trasferta di Cesena, la Nottolini si consola con i risultati e le prestazioni che arrivano dal settore giovanile. È il caso dell'Under-18, che ha battuto 3-1 il Bugiano e si è così qualificata per la finale interprovinciale, una fase che comprende compagine delle province di Lucca, ma se Pistoia. La squadra di cocce Emanuele Roni e del suo vice Paolo Tomei ha disputato una gara incomiabile anche sul piano del carattere. Dovendo rimontare il 2-3 patito sul campo delle Pistoesi, le giovani bianconeri si sono subito trovate sotto di un set perduto nettamente a 16. A quel punto però è scattato qualcosa, che si chiama furore agonistico e concentrazione assoluta, che ha permesso di vincere scioltezza il secondo set a 12 e poi completare l'opera con sufficiente disinvoltura, aggiudicandosi a 18 e 19 i due successivi parziali. È maturato un autentico trionfo per una squadra che si sta ben comportando anche in Serie D, dove veleggia nelle zone medio-alte della classifica e parliamo di Under-18. È in PV di serata Asia Castaldi nel contesto però di una grande prova di tutto il gruppo. Adesso la finale interprovinciale, con gara di andata giovedì prossimo 15 febbraio ore 21, sul campo dell'Aglianese, mentre il match di ritorno si disputerà mercoledì 21 febbraio, sempre alle 21 al Palapiaggia. Il basket, il Cefa, Castelnuovo torna a successo nel campionato di divisione regionale 2, lo fa superando in casa a 59 a 48 la Dinamo Rosignano, quarta in classifica. Un successo pesante e inaspettato per la squadra del presidente Vincenzo Suffredini, anche se nelle ultime settimane si era notato qualche miglioramento. Ora per i gialloneri incombono due scontri diretti, sabato la trasferta a Lucca contro l'Academy e poi la fondamentale sfida casalinga contro il Cus Pisa. Parliamo di beach soccer, profumo di mondiale. L'Ital Beach Soccer, targata a Viareggio, è arrivata in Dubai. L'Italia è arrivata a Dubai, il CT Emiliano del Duca ha scelto i 12 del Mondiale di Beach Soccer, il 15 l'esordio con gli Stati Uniti alle 12.30 diretta a Rai Sport. Rispetto all'Europeo vinto a settembre, l'unica vera novità è rappresentata da Joseph Gentilin Junior, che ha pienamente recuperato dopo l'operazione all'accrociato anteriore del ginocchio destro dello scorso 25 luglio. Fanno parte della rosa i cinque giocatori del Viareggio Beach Soccer, Carpita, Fazzini, Genovali, Remedie e Bertacca, oltre al portiere Viareggino del Pisa Beach Soccer, Leandro Casapieri. Il 12 sera a Dubai ci sarà la cerimonia del Beach Soccer Stars 2023. L'Italia può vantare due candidati, uno Leandro Casapieri come miglior portiere, l'altro il CT Emiliano del Duca. Entrambi rientrano fra i tre finalisti, l'Italia nel gruppo A con Emirati Arabi, Egitto e USA. L'elenco dei convocati, portieri Andrea Carpita, Leandro Casapieri, Sebastiano Paterniti. Difensori Luca Bertacca, Joseph Gentilino Junior, Alessandro Miceli. Esterni Ovidio Alla, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Marco Giordani, Alessandro Remedi, attaccanti Fabio Sciacca e Emanuele Zurlo. Grande successo per il criterium giovanile di pugilato che si è svolto a Lucca. La pugilistica lucchese ha dato il via all'attività giovanile regionale ospitando il primo criterium del 2024. I baby pugili da tutta la Toscana si sono ritrovati per disputare la prima di una lunga serie di gare che stabiliranno chi di loro rappresenterà la regione alle fasi nazionali. La partecipazione è stata numerosa e conferma la crescente popolarità del pugilato. Gli aspiranti pugili competono per la maggior parte in coppia con un compagno. I cuccioli, 5-7 anni, sono l'unica categoria in cui si gareggia da soli. Nel Cangurini, 8-9 anni, si inizia a gareggiare con un compagno cimentandosi nella corsa, sul circuito ad esse, nel salto della corda e in una prova di sparing a contatto controllato. La pugilistica ha schierato Vanessa Peitas, Giacomo Arambasa, Martina Fornai, Ray Zogu e Frania Edion. Per i Canguri, 10-11 anni, la gara è composta da uno scatto di 25 metri ed una prova di sparing più complessa. In questa categoria, la società di casa ha potuto contare su Davi Elghiati, Lorenzo Contino, Alessandro Lucchesi, Silvio Arambasa, Alessandro Fornai e Alessandro Salis. Infine, negli allievi 12-13 anni, i ragazzi si cimentano nello scatto da 25 metri e in tre riprese tematiche di sparing che vengono stabilite solo prima dell'inizio della gara. In questa categoria, per la pugilistica lucchese, hanno gareggiato Los Chagleon, Amrea Sgueo, Andrea Cristian Bigongiari, Fabio Cerri, Paolo Paterni, Cristina Casciaro, Desi Cucci e Ilaria Fasano. Piccoli biatleti del gruppo sportivo Focolaccia crescono in Valle d'Aosta. Si sono svolti a Brusson, in provincia di Aosta, i campionati italiani di biatron, area compressa, categorie allievi e ragazzi. Il gruppo sportivo Focolaccia aveva preso parte come rappresentante del comitato affinino toscano con due atleti, Mattia Malagola ed Irene Di Pietro, entrambi categorie allievi. Nella prima giornata di gara è stata disputata la prova sprint con due serie di tiro, la prima a terra e la seconda in piedi. Diverso invece il chilometraggio nei quali erano impegnati due ragazzini lucchesi, cinque i chilometri che si è dovuto sciroppare Mattia, quattro quelli sui quali si è cimentata Irene. La seconda giornata di gara è stata invece riservata all'inseguimento. In questo caso sono state quattro le serie di tiro con la partenza dei vari atleti, data in base al distacco accumulato nella sprint. Anche con una stagione che ha visto cadere veramente poca neve, soprattutto sull'arco alpino, le piste erano ben preparate e due atleti nostrani, seguiti dagli istruttori Marco Guidotti e Miriam Michelucci, hanno ben figurato e hanno oltretutto palesato un'ottima preparazione e assoluta determinazione. Il prossimo appuntamento è fissato ai primi di marzo con la seconda tappa dei campionati italiani a Fornia Voltre in provincia di Udine con le gare individuali e staffetta, ma è possibile che già nel prossimo fine settimana si riparta per maturare altra utilissima esperienza. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi, linea alla regia per alcuni preziosi suggerimenti commerciali.